stare insieme fa la differenza lo storico brand della famiglia grimaldi l'immobiliare.com propone un nuovo e affermato sistema di aggregazione immobiliare dedito a seri professionisti due le formule di business member e partner uniche innovative grazie al modello del business networking puntiamo sulla qualità della nostra informazione grazie all'innovativa piattaforma ai lab e sull'esperienza dei nostri consulenti immobiliari che da oltre 50 anni rappresentano l'eccellenza del real estate italiano nove opportunità e partnership di successo impreziosiscono il modello del nostro business stare insieme fa la differenza oggi più che mai scopri il nuovo modo di fare rete senza franchising con l'immobiliare.com